Si è tenuta a Chirignago la Corri per Monica, una corsa non competitiva di 7 chilometri e mezzo organizzata dall'Associazione Sportiva Amatori Atletica Chirignago per ricordare Monica Levorato, la 34enne morta nel marzo del 2008 travolta da una vettura mentre faceva jogging in via Seggiano. Molti partecipanti che si sono ritrovati presso gli impianti sportivi di via Calabria per vivere una mattinata di sport, amicizia e solidarietà. Dopo la corsa tutti al ristoro Corri per Monica per stare insieme e per ricordare anche una tragedia che riaprì il dibattito riguardante la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti lungo via Seggiano. Sono passati ormai sette anni da quel triste momento ma l'iniziativa dell'Associazione Sportiva Amatori Atletica Chirignago è utilissima per ricordare e per chiedere nel nome di Monica sicurezza e attenzione. Tra gli scopi della gara anche quello di raccogliere un contributo per la croce gialla di Spinea.